Siamo davanti al prototipo in anteprima della nuova Leica S3, top di gamma medioformato della casa tedesca. È veramente una cosa incredibile, è solida da morire. Tutti i pulsanti come potete vedere non c'è nessuna scritta perché è tutto personalizzabile a nostro piacimento. Il mirino è enorme e sopra un display OLED bellissimo con questa ghiera che ci permette di cambiare le impostazioni. Monta un sensore da 64 megapixel meglio formato e quanto di meglio si possa trovare. L'impugliatura è ergonomica da morire, è veramente un capolavoro e schiattare è un peggio vero piccino. Nova Leica M10P con l'otturatura silenziosa. Una Leica S3, sul 24,90. Grazie a tutti!